La realizzazione di un progetto cantieristico è un percorso complesso, fatto di diversi interlocutori e di una serie di informazioni fondamentali per la buona riuscita del progetto. Spesso però questi dati e queste informazioni si disperdono, lasciando l'investitore immobiliare o il costruttore privi di ogni feedback dal campo. Il metodo di cantiere facile è basato sulla trasparenza dell'operatività. Avere infatti le informazioni in tempo reale consente al costruttore di governare al meglio il proprio investimento immobiliare, magari tramite strumenti correttivi sul prodotto e quindi commercializzandolo al meglio. Noi lo facciamo attraverso strumenti di condivisione documentale e un sistema gestionale online sempre aggiornato. Grazie. Grazie.